E ciao a tutti eccoci qui io sono MM8 ed eccoci qui pronti per un nuovo video anche oggi Bene oggi è lunedì e quindi c'è il video su come faccio a fare una determinata cosa Prima di cominciare però io vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto Seguirmi su Facebook, seguirmi su Instagram, seguire anche la mia playlist di Spotify E ascoltare Daddy Radio tutto qui sotto in descrizione come sempre Bene lunedì scorso vi avevo detto che probabilmente vi avrei portato come faccio ad andare su Facebook con il cellulare Ma ve lo porterò lunedì prossimo perché c'è stato un ragazzo che non me l'ha scritto nei commenti qui su YouTube Ma me ne ha parlato su Whatsapp in privato e peraltro lo ringrazio anche per l'idea effettivamente E lo saluto anche, ciao Giovanni, un ragazzo che come me ama la musica e come me è non vedente Cioè diciamo che io sono non vedente totale e lui un po' comunque ci vede, poco ma un po' ci vede Meglio che niente per carità, beato lui da questo punto di vista E questo ragazzo mi ha fatto una domanda che magari qualcuno di voi si è posto Cioè come fai a mixare? E quindi ho pensato oggi di portarvi come faccio a mixare Quindi cosa farò? Prenderò le prime due tracce delle 10 che vi ho portato mercoledì scorso E vi farò sentire, vabbè, saranno due anteprime, diciamo la fine della prima e l'inizio della seconda Facendovi sentire e vedere appunto come faccio a mixarli insieme E niente, direi che possiamo andare a accendere il computer e farvelo vedere Bene, eccoci qui Vabbè, non lo vedete sicuramente adesso ma ho acceso l'altro computer Quello vecchio, diciamo, che avevo prima Perché uso quello per mixare In realtà, vabbè, uso poi, come vedete qui davanti, il controller Non mixo direttamente con il programma Anche perché non credo che ce la farei Essendo non vedente, devo avere qualcosa di più, diciamo, analogico Piuttosto che digitale E infatti ce l'ho qui, il controller davanti, come vedete Che è fatto, insomma, rappresenta un po' Chiaramente qui è un oggetto solo Lì si trattava di due piastre, insomma, separate proprio Con sempre i fader, con sempre tutto Rappresenta comunque un po' No, tutto tranne il sync, vabbè, adesso vi spiego tutto Rappresenta un po' come erano fatti i vecchi vinili con la puntina Vecchi, tra virgolette, vecchi Perché c'è chi ancora oggi, comunque, usa i vinili, effettivamente Però, insomma, bisogna essere più che bravi per la questione del pitch Perché quando si utilizzavano i vinili Il sync, che è questo tasto qui che serve per sincronizzare Diciamo, la traccia dopo, a tempo, perfettamente Con quella prima non c'era, chiaramente E non c'è ancora oggi C'era però questa levetta qui, che è il pitch Che c'è sia qui che sull'altra piastra Quindi ce ne sono due Un pitch per ciascuna piastra Che serve per velocizzare e rallentare La traccia in questione Diciamo che bisogna essere più che bravi per utilizzare il pitch Perché Perché praticamente Se Due Due tracce Si mixano Con il pitch Utilizzando il pitch Se non sei più che bravo Finisci che Non mixi bene, insomma Uno che All'orecchio, insomma All'orecchio, nel senso che ci capisce un po' Sente perfettamente che Il mixaggio, invece di fare Due tracce, invece di fare Quindi perfettamente a tempo, come dovrebbero essere Finiscono per fare Perché, insomma, con il pitch È molto più È molto più difficile Mixare Proprio perfettamente a tempo E quindi le due tracce finiscono Per un po' Perdersi Invece con il sync Che è questo tasto qui Anche qui Ce ne sono due Ciascuno per piastra Questa cosa Salvo imprevisti Proprio che succedano una volta ogni morte di papa Non succede Poi c'è anche questa Manovella qui Che è il filtro Che io utilizzo molto Perché ammetto che mi piace molto Vabbè, non c'è niente di male Insomma Nella parola ammetto Però lo uso Tra regolette Ammetto che mi piace molto Come mixava Le DJ Parade Prezioso Quindi già Lo scratch Che lui ne usava tantissimo Per il momento Non sono ancora in grado di usarlo mixando Ma Quanto meno il filtro Che lui lo usava sempre Lo uso anch'io E adesso lo sentirete E vi faccio vedere Come mixo appunto Con Il sync Non con il pitch Appunto Perché con il pitch Non lo uso praticamente mai Non essendo Più che bravissimo Un giorno Chi lo sa Magari ci arriverò Allora Vi faccio sentire Per non spoilerarvi Le due Le prime due tracce Di mercoledì prossimo Vi faccio sentire La fine Della prima Che c'era Nel video Che è uscito Questo mercoledì E l'inizio Della seconda Del video Di mercoledì Questo Allora Avete visto Che ho tirato giù Il secondo Fader Allora Il crossfader È al centro Il fader Sono queste due Levette qui Adesso Faccio partire La fine Della prima traccia Ha comunque Non vi ho spiegato Il tasto del cue Che è questo Quindi ho Ho ritirato un attimo Su L'altro fader Per farvi sentire Cosa è il cue Questo praticamente Sentite la traccia Che fa Quindi Da dove Si deve far partire Ecco Quindi io il cue L'ho messo Qui A questo punto qui Quindi ogni volta Che lo schiaccio Però Qui c'è il play Per farla partire Definitivamente Allora Questo è al centro Il crossfader Come vedete Adesso Io lo ritiro giù Il secondo fader Mentre il primo È su Schiaccio play Parte la fine Della Prima traccia Su Mettiamo un po' di filter E poi vabbè Ovviamente qui parte Fermiamo E bene Avete sentito un po' di filtro Ovviamente Alla prezioso Beh se qualcuno di voi Ascoltava E ascolta ancora oggi Come me La DJ Parade Che mixava prezioso Vi siete accorti Vi siete accorti Che il filtro Comunque È molto simile E niente Quindi spero di avervi spiegato Nel modo più semplice possibile Come faccio a mixare E dunque avete visto anche Come faccio a mixare Spero che vi sia piaciuto Questo video Che sia stato interessante Magari Come ho detto all'inizio Qualcuno di voi Se l'era chiesto Come facessi mai E beh Eccolo qui L'avete appena visto Bene Ci vediamo mercoledì Con appunto Un altro video Mixato da me Le dieci tracce Altre dieci tracce Anni 90 e 2000 Mixate da me E Alla fine Venerdì Ci eravamo lasciati Con quel Dopo il video Con mio padre Con quella domanda Diciamo Che Non sapevo ancora Quale sarebbe stata La risposta Cioè Quale compilation Avremmo Ascoltato ieri Se Effettivamente Hot Parade 2001 O Hot Party Summer 2001 Alla fine Avete visto Che vi ho portato Comunque Hot Parade 2001 Purtroppo Monca di una traccia Cioè La 19 Perché appunto Non siamo riusciti a Insieme a Paolo Caricarla Per questione di Copyright Però per il resto La compilation c'è Manca appunto La traccia 19 Purtroppo Sì Mi è spiaciuto Però era L'unico L'unico Modo Per caricarla Qui Su Youtube Questa domenica Dunque ci sarà Hot Party Summer 2001 Bene Prima di salutarvi Vi ricordo di Iscrivervi al canale Lasciare un like Lasciare un commento Seguirmi su Facebook E Instagram Seguire la mia Playlist di Spotify E ascoltare Daddy Radio Bene Noi ci vediamo dunque Mercoledì Appunto Con un video Di altre 10 tracce Anni 90 e 2000 Mixato Da me Ciao Da me 8 Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo anti marker